1,6 milioni di euro da destinare alla lotta alla povertà contro la marginalità sociale. E' quanto stanziato dalla Regione Abruzzo, che si rivolge agli ambiti sociali per azioni finalizzate all'inclusione delle persone a rischio di grave marginalità e interventi diretti in favore dei senza tetto. Prende il nome di Integra, l'ultima iniziativa di inclusione sociale della Regione, che chiede la collaborazione degli ambiti distrettuali sociali per elaborare un progetto che riesca quanto più possibile ad essere efficace e deciso, dice l'assessore alle politiche sociali Roberto Sant'Angelo. In questo senso è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli ambiti sociali per conoscere quali di essi sia disposto ad avviare una progettazione condivisa con la Regione Abruzzo per attingere ai finanziamenti previsti dall'iniziativa Integra. La scelta di chiamare in causa gli ambiti sociali, spiega Sant'Angelo, è legata alla necessità di avere referenti che abbiano piena conoscenza della realtà sociale e di diversi territori regionali in modo da predisporre strumenti effettivamente efficaci. Questo può essere garantito solo dagli ambiti sociali che ogni anno, attraverso il piano regionale sociale oppure altre forme di finanziamenti nazionali, garantiscono azioni di inclusione sociale e lotta alla marginalità. Il progetto Integra può contare, come detto, su una dotazione finanziaria di oltre 1,6 milioni che verranno utilizzati per tre azioni del programma. Interventi di rafforzamento del sistema di accoglienza delle persone e nuclei in condizione di elevata marginalità, interventi di riduzione delle condizioni di deprivazione materiali dei senza dimora, misure di accompagnamento quali prima accoglienza e orientamenti ai servizi. Il Comune di Pescara fa sapere che sta elaborando i dati sulla povertà che renderà noti con una conferenza apposita prevista per sabato prossimo.